ragazzi oggi con grande orgoglio e grande piacere presentiamo il secondo nato di officine rolling wine un progetto fortemente voluto white rabbit è un vino che nasce dalla collaborazione dalla grande amicizia che abbiamo con i ragazzi di sieman in veneto è un vino bianco classico composto da garganega in crocio manzoni la garganega fa pochissime ore di macella di contatto con le bucce e va subito in una botticella di acacia dove fa l'affinamento il crocio manzoni viene pressato direttamente e va in acciaio le due masse quindi vinificate separatamente vengano unite viene fatto il blend ad aprile 2022 il blend è stato fatto quando siamo andati la io andrei all'assaggio però non vi svediamo più di tanto con questo giro perché comunque come si è sempre detto robie officina è un progetto che nasce per raccontare l'idea nostra del vino del vino naturale senza troppe analisi senza troppe diciamo descrizioni ma facendo parlare il vino stesso leggere i giorni si fa capire bene l'idea che c'è dietro l'officina dei rolling wine è un progetto nato per trasmettere la nostra idea di vino attraverso il vino stesso senza filtri né lunghe dissertazioni senza troppe spiegazioni partendo da un'idea semplice sono vini che scaldano l'anima fatti per essere bevuti e non analizzati nati da mani amiche vignaioli che condividono con noi l'amore per la natura il rispetto per la terra la rivalutazione dei territori e la convinzione che sia l'uomo il cardine vero del terroir e quindi ecco questa è un po l'idea che c'è dietro il progetto l'officina e rolling wine dico semplicemente ovviamente questa è una vendemmia 2021 bottiglie prodotte solamente 200 quindi è proprio una chicca per pochi sì sì perché è buono comunque andiamo all'assaggio si è il vino ideale se l'estate va giù benissimo si beve bene sì però essendo molto molto giovane come hai detto che è una 2021 a se si lascia un po in cantina regalerà grandissime soddisfazioni da bere ora è spettacolare perché non ve lo diciamo è molto rinfrescante però ecco se lo lasciamo in cantina avrà sicuramente una grande evoluzione assolutamente sì e poi fateci sapere che pensate perché la cosa fondamentale è anche il vostro parere salute salute